CANTO VENTESIMA PUNTATA DE ROMPI BALLES SHOW OLE 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 I ROMPI BALLES SHOW OLE 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 I ROMPI BALLES SHOW Allora, vi voglio parlare di questi reality show, sì sì, che hanno dei nomi veramente assurdi, in particolar modo due, perché per dirvi che ne so, l'isola dei famosi già è diverso, perché c'è un'isola e ci sono dei personaggi famosi che fanno reality show, ma il grande fratello. Cioè, ma che senso ha chiamare un programma così, il grande fratello? Ma, allora, uno arriva, che ne so, e dalla Liguria, si chiama Belin, ecco, l'altro arriva dal Piemonte e si chiama Giarduiotto, sì. Quell'altro arriva dal Trentino Atlantici e si chiama Schweinzeiger, ecco, uno arriva da Roma e si chiama Rossi, l'altro arriva dalla Puglia e si chiama Papa Fico, quell'altro si chiama Papa Sodoro. Cioè, non sono fratelli, che senso ha chiamare il grande fratello una trasmissione del genere con tutti i personaggi che hanno i cognomi diversi? A meno che, magari, il padre di questi qua non si sia dato un grande affare, abbia girato tutta l'Italia e poi dopo si è scappato senza lasciare nome e cognome. Ecco, però, cioè, più che altro io lo chiamerei il grande guardone, ecco, il grande guardone sarebbe il titolo più appobbiato al grande fratello, ecco, grande guardone. Quindi, quando fate questi titoli qua, vedete di usare un po' di testa. E l'altro, il contadino cerca moglie. Ma io dico una cosa, avessi mai visto un contadino che sta zappando la terra e mentre zappa la terra cerca moglie? Ma porca miseria, ma che titolo è? Io, più che altro, lo avrei chiamato in un altro modo. Ecco, il contadino cerca la patata. Ecco, avrebbe avuto più senso. Ma per ovviare a questi grandi problemi, io mi sono concentrato questa notte. e dopo, sui vari altri tentativi, non riuscivo a capire quale reality show potessi inventare io, personalmente, col nome giusto. Allora mi sono messo lì a fatto, così. E allora lì mi è venuto in mente il titolo giusto per il reality show che voglio fare io, sì. Il camionista cerca il benzinaio. Ecco, esatto. Lasciamo il camion con un litro di gasolio, di nafta, qualche a lè. E se tu non trovi il benzinaio nel raggio di un chilometro, vieni il croce fisso in sala a mesa. Esatto. Nel caso contrario che tu lo trovi, fortunatamente, vinci il rifornimento del carburante per il tuo camion per un anno. Ecco, esatto. Per un anno vinci il rifornimento del carburante per il tuo camion. Arrivederci a tutti. Chi mi sta chiamando non lo so. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.